buongiorno a tutti e buongiorno molto molto presto perché sono le 6 io sono ancora dormiente molto dormiente adesso guidiamo fino al circuito di adria e dopo vedrete cosa facciamo oggi cosa faccio ad adria oggi collaudiamo la nuova aprilia rs 250 sp a a a a a Allora, primo turno fatto con questa moto nuova cioè, voi non avete idea di quanto sia divertente è tipo, a parte che non mi ricordavo più cosa volessi dire guidare una moto con pochi cavalli perché era tipo 5 anni che non guidavo una per Moto3 comunque quindi uscire dalle curve e la moto non si impegna, non fa niente, è strano però veramente divertente tra l'altro qui c'è il mio amico Giacomo che è il proprietario di Adria Ciao a tutti che è mascherinato, io no perché se no non riesco a vloggare un dentista, io sono un dentista ecco, quindi se dovete fare qualcosa da Giacomo ok, tra 5 minuti entro per fare il secondo turno vediamo un po' come va adesso dobbiamo fare un po' di roba sulla moto dobbiamo provare un po' di cose nuove quindi vi aggiorno dopo allora la mattina è finita adesso tra un po' andiamo a pranzo questa è la moto le avete già viste perché ve l'ho fatta vedere però veramente guardate quanto bella è sembra una moto da corsa di quelle che si vedono in moto mondiale che spettacolo o appena potete provate perché veramente è top questa oggi pomeriggio abbiamo 4 turni e dobbiamo fare parecchi sviluppi facciamo un po' di prove appunto e poi un time attack per forza questo è un po' di cose nuove abbiamo fatto i primi due turni di oggi pomeriggio e adesso è ora del time attack con un sacco di sole negli occhi avrò gli occhi chiusi sicuramente non vi potrò ovviamente dire in quanto girerò perché è tutta una cosa un po' top secret a giornata finita sicuramente promuovo questa moto veramente mi sono divertito io normalmente guido almeno con 130 cavalli perché la moto 2 appunto ne ha 130 però questa veramente cioè ne ho molti meno ma mi sono divertito una cifra allo stesso e veramente se avete tra gli 11 e 14 anni io questo ve lo consiglio super super vivamente è il campionato d'aprile a sport production e veramente cioè è perfetto per un ragazzino che vuole fare il pilota e vuole imparare la giornata è finita aprile RS250SP è stata super promossa la giornata è stata veramente divertente e non pensavo che ci si potesse divertire così tanto con una moto così piccola mi ha stupito veramente super consigliata il video è finito se vi è piaciuto lasciate un like e un commento iscrivetevi al canale dicendomi cosa ne pensate di questa nuova super moto e ci vediamo al prossimo video ciao grazie a tutti